Il Reshoring è il primo bando che esce per la riutilizzo dei capannoni abbandonati. In modo particolare pensavamo ai centri artigianali abbandonati nell'area interna e tante zone industriali che avrebbero bisogno di rivitalizzazione e con questo bando la piccola e media impresa ha uno stimolo in più per riqualificare opifici, per riaprire e per assumere nuove persone. Contiamo di poter fare subito l'intervento su 50 imprese, quindi diciamo 50 nuovi capannoni aperti e successivamente rifinanziarlo se ci fosse l'esigenza. Però certamente questo è un bando per chi vuole riaprire un'attività produttiva di stimolo perché in questo momento servono stimoli alla riapertura, alla ripartenza, a chi vuole investire e sostenerlo. Quindi questo era l'obiettivo di questo bando e quello che vorremmo fare. Per cui diamo un incentivo molto importante pari al 50% delle spese che si andranno a effettuare per il recupero di questi fabbricati e teniamo molto anche alle assunzioni di nuove unità di personale proprio perché non vogliamo spopolare le zone interne. Il bando è stato fatto in modalità semplificata, nel senso che l'imprenditore dovrà autocertificare i criteri che noi abbiamo indicato dal bando e a seguito della loro certificazione estileremo una graduatoria molto veloce al fine di assegnare i fondi a disposizione già nel corso di questo anno.